E' una notte che delineerà il nostro paese. Cittadini, questa sarà una tradizione da festeggiare ogni anno. Partecipate al primo sfogo. Isaiah, dammi un bacio. Non mollare, sorellina. Mai. A stasera. La gente chiama questo controverso esperimento di crimine legalizzato lo sfogo. Niente sfogo! Niente sfogo! Voi due starete con me durante lo sfogo. Ce la caveremo da soli. Siamo qui con la dottoressa May Updale, l'ideatrice di questo esperimento. Lo sfogo è uno strumento politico. E' uno strumento psicologico. Per salvare il paese dobbiamo liberare la rabbia in una sola notte. Vedremo il buono e il cattivo di ognuno di noi. Questo è il sistema di trasmissione d'emergenza che annuncia l'inizio del primo sfogo. Il nostro quartiere è sotto assedio grazie a un governo a cui non importa nulla di noi. Al suolo della sirena ogni crimine, incluso l'omicidio, sarà legale per le successive dodici ore. Ci sono tante persone per bene che dovremo proteggere. Tutti i servizi d'emergenza non saranno attivi. Dobbiamo essere pronti a tutto. Il governo vi ringrazia per la vostra partecipazione. Feste? Avevi previsto un livello di partecipazione più alto. La natura umana non segue le leggi della politica. Che cosa succede? Tutti ex militari. C'è qualcosa di strano, Di? State inviando soldati sull'isola, travestiti da civili. Il paese ha bisogno che funzioni. Nessuno verrà ad aiutarci. Dopo questa notte, tutto cambierà. Si sono dimenticati una cosa. Ci siamo noi. Cosa ho fatto? Via! Resisti. Arrivo. Arrivo. Ricorda tutto il bene che porta lo sfogo.